Marcelli Luca, capitano del progetto atletico, risultato 4-2 per la Riese, se vuoi fare un commento sulla partita? Dico che è un grosso peccato perché siamo passati in vantaggio, su un bel errore del loro portiere e poi purtroppo secondo me non siamo riusciti a contestare comunque una buona squadra in salute, anche se comunque abbiamo avuto le nostre occasioni. È un peccato perché potremmo avere qualche punticino in più, però la squadra c'è, il gruppo c'è, ci siamo e sono sicuro che prima possibile otterremo la vittoria che tanto speriamo e spesso meritiamo. Domenico al prossimo abbiamo il Borgorati fuori casa, che partita pensi che possa essere? Sarà una bella partita tra due anni promosse, il Borgorati l'anno scorso ha vinto campionato di seconda, noi abbiamo passato il payoff e sicuramente sarà battaglia come tutte le altre volte, speriamo di poter raggiungere la vittoria, comunque affrontiamo un buon avversario. Grazie Capitano, ciao ciao.